Non ti arriva a tirci con le nostre solite magie, dai! Oplano! No! Eccolo che si incazza, ecco. E' già, chi vuole unirsi sempre il benvenuto. Eh, si, capita sempre. Olè! Ma buttala indietro! Dov'è che stavo lì? Ok! Tirala così, dai, con calma! Dai! Scendi! No, non è giusto! No! Vai così, vai così! Dai, stai fermo, che va a gol quello! Opla! No! Ma perché non hai imbalzato su di me? Eh, sono di nuovo forti questi! Dai, qualcuno la butti! Dai! Che cavolo? Non t'avrà più! Quella è in moto! Tadam! Tadam! Bravissimo! Me lo fa tentare lui! Bravissimo! Grazie mille! E vinciamo così! Eh, già! Come sempre! Vai! Lo fa! Ah, vinciamo così! Ma fatta! Acche cazera! Virs 거기! Vinciamo così Ho il doppio, sarà duro qua, eh. No, dai, l'avevo tirata! No! Cosa ho fatto? Ah, che paura! Dai, che ci sono! Bravo, bravo! No! L'ho fatta io! Questa mi ha fatta, non è giusto! Opla, volevi di nuovo! Opla! Dai, che... No, adesso ci segna, no! Lo sapevo! Così! Di là! No, dai! Come la presa! Dai, quasi! Oh, no, dai, perché? E tira la mia! Ci sono riuscito di poco! E segna di nuovo! Oh, ma porca, mi sapevo! Eh, capita! No, no, no! No! Aspetta! un attimo mi stavo girando a guardare dove era la palla e niente eh già bello così no e gol il gioco attenzione eh vabbè mi ero fatto il gol vabbè dai dai fammi segnare un altro gol no no non l'ho proprio vista no no la sbaglia no cosa hai fatto no perché era buona che usciva perché potevi lasciarla perdere eh già ole 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 no dobbiamo approfittare del delio io ok ole 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 attenzione hopla dai dai buttala buttala ehi lì no buttala via buttati di là no così come non entra aspetta che ho balzato tutto male no guarda come ci stanno stanno solo difendendo perché stanno sul 5 a 1 eh si vede proprio no dai l'avevo tirata dai così io li distraggo tu tira ecco dai che c'è si deve andare a gol questo hopla no la volevo io dai 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 stai fermo che gol mamma mia può player qua eh vabbè qua c'è on a tutti proprio eh già quack tu o io o tu o io no fermi tutti fermi aspetta 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 che devo prendere le misure tira così e non voglio sbagliarmi stiamo calmi e attivo che vai dove sono io così così non è andato dove non è andato dove pensavo andasse così così vai in mezzo in cross bravissimo vedi che ci capiamo che bello quando l'altro capisce non so non so eh se facciamo 5 a 5 dubito è finita e go ma siamo fortissimi fortissimi che che o Noi, 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 noi. E la ripresa. Così? Arriva il cross! Mamma mia pro player qua! Madò che gol questo! Mamma mia! Troppo avanti, troppo avanti, signori. Guardalo lì! Il Del Piero di Rocket League! Pam! È la piazza! Dai! Perché subito esplode? Ancora la tengono sull'angolino. Arrivo io! E non se ne aspetta nessuno! No, dai! Come, parata! Tirala, tirala! No! Tutto buggato, niente. Guarda come laggo, forte. Il cross! Guardalo! Guardalo! Ci può... No, dai, che sei stronzo, però, eh, tu. E fammelo fare un gol, che cavolo! Fermi! Così? Così? Dai! No! È finita! La paro, la paro in qualche modo! Ecco, butta la via! Dove va? Dove va? Perché non va avanti sta palla? Dai, così! Sempre all'indietro! Va! Dai! Opla! Quella! No, ma c'è sempre un putti lì! Maledetto! Beh, così! Eh, diè, diè, diè! Ma dai! No, ma perché? Che fastidio! Pala, la pala! No! Oh, diè, diè, diè! noooooooooooooooooooooooooooooooo hai segno eh se la prendevo io però no non salto è finita ma anche vai così ma perché no cosa ho missato voilà non è ancora finita dai ah che eh vabbè però eh boh perché non la prendo perché no così eccolo no 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 dai ragol perché così no ma c'è sempre una eh vabbè è pazzesco è pazzesco perché c'è sempre il portiere lì che non si riesce a superare è pazzesco ah vado io no ma bravi così evitatela no dai no oh ma scusami però se il gioco vede che non ci riusciamo perché continua a metterci conto gli avversari forti non ci arriva che dovrebbe cambiare tipo di avversari no mettiamoli sempre quelli difficili 9 8 7 6 5 4 3 2 1 finita 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 1 3 4 4 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 11 8 8 10 9 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 17 16 15 16 18 18 18 17 17 18 così 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 non c'è nessuno no dai sono tutti laggiù gli sarebbe piaciuto vai così aspe così così ahah gliel'ho rubata no dai stavo facendo cose dai però perché bravo dai non riesco mai a piegarla come vorrei wow così qualcuno in mezzo dai però fate l'autogol una volta non sono riuscito non a me no di nuovo no l'hai fatto tu ah no ok meno male ecco così no dai levati ma ci sei sempre tuo esatto così hopla ferma tu fermati no ma che palle no bravo è assegnato lo stesso ma scusami quindi come poi ma ci fanno fare un gol e poi basta no dai era bellissimo no 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 e vabbè che cavolo però poi ho visto che non poteva sbagliarlo però ha tentennato eh chissà perché voilà no dai tutte le volte non cloppisco ma perché ma perché ah l'ho parlato ma dai di nuovo è gol eh sì è gol è gol è è gol Grazie. E' finita. 4, 3, 2, 1, finita. Va bene. Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ok. No, in due non è possibile. Eravamo proprio lì tutti a tirare, niente da fe. E vabbè, però, che casino, che disastro. Dai, forza. Ok. 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 Bella lì. Dai, con sto pallone. Dai, dai, ma perché? Perché? Ma scusami, ma tu sei un rosso come me? Perché fai ste cagate? Perché? Eccolo. Eccolo. I cos... Mamma mia, il pro player, signori. Il fenomeno, signori. Si butta tutto da solo, nessuno se lo aspetta e tira. Allora. Eccolo. Mecola. Eccolo. E E E E E E E Così Così E E uno l'ha insegnato Eh Voi venne scazzando con calma Opla Voi 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 Bella lì Ah è mio Ah cazzo Voi 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 Eh vabbè E qua ci segnano Eh Se vuoi giocare con me Si certo certo Finisco qua un attimo e ci sono subito Comunque a posto se no C'è Voi dai dai e no dai era dentro che cazzo bella domanda non credo ci sia scritto forse si vede dopo però mi pare argento non mi ricordo bene in che cosa però argento speriamo di riuscire a fare delle ranked perché se tu sei troppo alto non ce le fa fare speriamo in bene però mi sa che il diamante è molto grosso come livello dai dai scendi no no perché ma perché l'urcata puntata via perché gli ho fatto il cucchiaio perché non andava bene oh il movimento era giusto a capire vabbè comunque possiamo fare altre modalità non è un problema no e la evito malissimo e vabbè la fine così stai fermo ma che pare non so come fare una giocata in pace oh no dai sì ciao dai dai ma perché ma porca miseria nooo di nuovo indietro 9 8 7 6 5 4 buttate che non c'è nessuno ma perché no per poco era goal quello se vuoi ci siamo se vuoi giocare ci sono se vuoi ti aggiungo mi dici come come ti chiami in suepi che ti aggiungo ah è tuo amico intanto io devo aprire un sacco di roba ma perché possiamo giocare a qualsiasi altra modalità ma perché questa cattiveria vediamo cosa vinco ma sta tigre non è anche forse ce l'ho già può essere niente di che come sempre e via non è non è non è non è non è difficoltà a giocare perché c'è troppa differenza di rank i diamanti sono tosti ma sì ma se giochiamo a una casuale non c'è problema perché tanto nessuno di due perde il livello quindi va bene così non capisco il problema anche anche con con stock abbiamo fatto la stessa cosa e riusciamo a giocare lo stesso quindi non c'è proprio problema come vuoi come vuoi come vuoi per dire che si può fare benissimo volendo ok però mi sa che e no sono nel competitivo non posso abbandonare neanche volendo sono condannato per l'eternità a stare qua cinque minuti hopla no che cacca che sei dove vai dove vai è di nuovo qua la palla cosa stiamo facendo no vabbè in teoria sì però se non si può è meglio che niente no fare le casuali o fare basket o fare ok quello che vuoi proprio sono tutte le modalità che vuoi a me piace tanto la rissa anche se non so perché la gente non piace però divertente no ma perché tanto di rankhead sarebbe proprio impossibile in pratica perché rocket league ti blocca quando ti ti metti assieme uno con un dislivello così ti dice che non ti fa giocare competitive perché non riesce ad abbinare talmente il livello è grosso niente non si riesce a spingere sono però se voi ti posso spiegare cosa migliora la meccanica eh si mi han detto che gioco un po' male effettivamente bello lì lo no dai era bellissimo costituità teci dai però mamma mia no ho saltato troppo prima perché pensavo che quello fosse bravo eh no non si sono riuscito non sono neanche però ho imparato un po' di cose eh si capisco ti dico già che se vuoi dirmi della ball cam sarà inutile perché non riesco non riesco proprio fisicamente a a tenere d'occhio la palla premendo triangolo gioco bene solo così da quando da quando era pagamento che lo gioco così quindi ma che cazzo fa questo qua così no dai se stavate fermi uh sbaglia vai vai che porta vuota dai che porta vuota ce l'abbiamo fatta pazzesco e lo so come vedi non riesco sono abituato a giocare così perché tanto seguo la palla un po' con la freccia e quando è in alto mi oriento col cerchio che c'è in basso e poi salto il momento giusto eh no ogni volta proprio stavolta hanno abbinato bene secondo me perché se siamo in parità vuol dire quello però si in effetti me la cavo bene col 3v3 perché è niente me la cavo meglio col 3v3 perché se siamo in due molto spesso capita che nessuno di due sta in porta invece nel 3v3 trovo sempre uno che si offre volontario sta in porta eh no dai ceo perché vai muoviti eh sì però se c'è il tubo non è finita così 5 4 3 dai fatemelo fare che andiamo in parità che palle eh vabbè d'accordo allora d'accordo allora eh sì ho sbagliato torno al menu perché sempre è sempre Mr. di Epic se vuoi aggiungermi eh lo so però te l'ho detto non sono proprio abituato quindi come vedi Mr. Watt in realtà no però facciamo finta che tu lo veda e Mr. Watt come vedi dovrebbe venersi no? devo sistemare una impostazioni qua quindi se vuoi aggiungermi il nick Mr. Watt come scritto nel canale senza 97 solo Mr. Watt ok ci sono ok ciao ciao no dai dai che buona state fermi che andava a gol e fatica no dai no no v2 v2 si è un altro video e lo così no dai mi ho toccata la palla la sbaglia forte tirala forte questo qua è morto no proprio mio compagno è paratissima no dai ma porca puttana ma sono da solo a giocare perché il gioco non fa nulla piazzami un bot che almeno si muove no volevi volevi tanto ma eh volevi tanto parte 2 oh è vivo ma non così no 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 eeeh e niente mai una volta eh no dai nessuno muoviti muoviti verso la palla dai 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 no niente non c'era 10 non c'era 10 ma mia cosa che non fai nulla nooo volevo parla ma non è servito a nulla oh ma sei scemo hai detto mia e vabbè vai vai spingi sta palla spingi sta palla eh sì dovevo distrarla forse però vabbè non si riesce a fare niente ma sto matchmaking è un periodo che ho che non riesce a fare un buon matchmaking non capisco ma non così fermo lì non ci può fare fermo lì dai però dai buttala dai no 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 ma perché fai di nuovo gol bellissimo non riesco a rubare vedelo sono proprio quei gol fatti da un campo all'altro che non non puoi farci nulla perché è un gioco di rimbalzo perfetto che è successo a caso no dai no opla lì opla lì il corso no che cazzo ho sbagliato oh ma cosa vuole questo qua ma buttala ma che cazzo fai cosa fa questo qua muoviti tira sta palla ecco subito in difesa chiaramente no è gol oh che puttana no no riescono dai 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 fagli il gol dai questo è gol dai smetti la chiusa così 9 8 7 6 5 4 3 abbiamo perso prima o poi ho credito lì che capì ha no la la difficoltà giusta per me ok per me Oh, bravo! Eh no, non ci credo! Eh dai Peo, che fatica! No, non l'ha tirata indietro! Vai così, dai! No, più in alto ancora di me è andato! Bravo! Bravo! Ti rubo il gol! Te l'ho rubato! Te l'ho rubato il gol! Mamma mia! Troppo forte! Troppo forte! Rubatissimo! Rubatissimo! Mi ha già il gol però! Per essere sicuri! Eh, bel Dio! Io l'ho rubato! No! Dai! L'ho anche saltato per non prenderlo! Così! No! Che ho parla! Bravo! Dai! In mezzo! Chiudi la! Chiudi la! Ah! Ma vaffanculo! Dai che ci siamo! Mamma mia! Il tocchetto proprio per sbaglio! Meno male che ho votato un po' se no! Avevo proprio lì! Tac! Appena sfiorata col culo! Madò che rischio! Hopla! Animo! Animo! Ma è bravo questo qua! Che tira! Bravo! Però non capisci quando andare in mezzo! Parala! Bravo! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Ma cosa ho fatto? Proprio così! Goliadia! Improvvisa! Guardatelo lì! Si oppongono al pallone ma niente! Sono troppo forte! No dai! ma è proprio un puttinato questo così cos'è? state calmi qualcuno in mezzo che chiuda nessuno mai nessuno mai eh eh mi sarebbe piaciuto a presto e già finalmente l'ha capito forse il matchmaking forse no ma sul serio è capitato no dai come cazzo ha fatto e questa lì la diamo dai no 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 wow che squadra che siamo 8 7 6 5 4 3 2 1 ma ha segnato veramente ma adesso diventano forti 1 bom mamma mia troppo forte e quindi grazie a tutti per essere passati e ce l'ho visto vatti 5 a 1 1 1 1 1